Ciao ragazzi, siamo qua direttamente alla Podgorica, alle mie spalle potete vedere il piccolo e semplicissimo circo. Ho appena finito di giocare il mio primo torno di tabellone contro Stefani Vopt e finalmente dopo 5 incontri consecutivi con lei persi. Finalmente oggi sono riuscita a vincere 7-6 al terzo, una partita veramente tosta, veramente dura, sempre stata molto vicina, ha vinto 7-6 al terzo. E niente, qua il tempo, come potete vedere adesso c'è un sole pazzesco ma è da tre giorni che continua a piovere. Domani o dopodomani ci sarà il secondo turno, adesso vedremo bene dagli orari. E cosa vi posso dire? Andiamo a giocare contro una Y-Cab di Cipro e cosa vi posso dire ancora? Tutto bene, tutto a posto, è già la seconda volta che sono venuta qua in Montenegro. E quindi, bene, cosa posso aggiungere? Un bacio a tutti i ragazzi Utennis. Ciao!